Parchegio, 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 ferma la macchina, ferma la macchina. Sbloccami, sbloccami. È occupato, no, no, è occupato, è occupato, no, è mio, chezzo. Tess, dovresti cambiare lato ogni tanto. No, lo so, ma ho poco tempo e l'abbronzatura dietro si vede meno, quindi prima lavoro sul frontale, che è la parte più importante, capito? È tutto sotto controllo. Ah, signorina, la sabbia! Scusate, con tutto rispetto, se non vi piace la sabbia non venite in spiaggia, no? Se non ti piace la sabbia non venite in spiaggia. Giusto. Non posso replicare. Vado a farmi un bagno. Tess, stai facendo la pipì? No, non so, c'ho sabbia nel costume. Non sto facendo la pipì, ho sabbia nel costume. Non dare dire in giro che sto facendo la pipì, non sto facendo la pipì. Nick, ti posso fare un test? No, no. No, Nick, ti faccio un test. Allora, la gelosia per te è utile, indispensabile o una stupidata? Una stupidata. Preferiresti mangiare dal naso o parlare dalle orecchie? Mangiare dal naso. Allora, tu in un'altra vita eri uno scogliatolo. Fine del test. Giochiamo a racchettoni? Adesso giochiamo a racchettoni? Dai, giochiamo a racchettoni, per favore! Praticamente sono entrata in acqua, no? E avevo notato che... E ci sono, boh, non so, mi sa che qualcuno mi ha spussato acqua. No, praticamente, quindi entro in acqua e... Ti dicevo... Giochiamo a racchettoni adesso? Giochiamo a racchettoni? Giochiamo a racchettoni, giochiamo a racchettoni, giochiamo a racchettoni... Sai che non mi va più? Vado, torno di là. Ho attaccato qualcosa! Ho attaccato qualcosa! Ho attaccato qualcosa! Signorina, che... Sono entrata in acqua, praticamente, a un certo punto. Ti ricordi il tipo che avevamo visto? Ti richiamo fra un secondo. Era per ridere! Volevo fare uno scherzo! Non volevo spaventare nessuno! Per favore! Uomini divertenti! Ha, ha, ha! E quindi sei un surfista? Anch'io ho fatto surf per un po' di anni. Non sarò brava quanto te, però ho girato il mondo alla ricerca dell'onda perfetta. Vedi questa cicatrice? Qua? No. Sì, qua, guarda! Sono andata in Australia con i miei amici surfisti. Sono praticamente caduta sulla barriera corellina. Questo perché stavamo scappando da un branco di squali bianchi. Però, visto che noi siamo molto bravi a fare surf, siamo riusciti a scappare con l'onda giusta. Insomma, mi capisci, immagino. Ma tu che tavola hai? La tavola di cosa? Tavola da surf. Ah! Ehm... Ehm... E io ho una... Ehm... Ehm... Di quelle... Piatte, innanzitutto. Perché va... Cioè, va veloce. Ehm... Ragazzi, ragazzi, ho perso il costume! A questa nostra vacanza tutti insieme. No, ragazzi, all'amicizia. No, ragazzi, dov'è tesso? Sono stata un po' in acqua, ho perso il costume e non c'era nessuno e quindi sono qui. Dio, ragazzi, è un po' in acqua.